Ho 48 anni Non è chiaro Aiuto, sono più vecchi Ai 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 ai, non volevo denunciarla Mi mire di fare una domanda Non so se lecito magari Ieri avete visto appunto lo spettacolo Siete stati ospiti dell'associazione Insieme Per una rappresentanza che comunque ha vissuto I suoi problemi e parliamo del terremoto e quant'altro Confrontarsi anche visivamente Nel senso di assistere a uno spettacolo Realizzato da... Che cosa porta... Qual è l'impatto? Allora l'impatto è sicuramente fortissimo È il regalo più bello che io ho ricevuto In tutti questi anni Regali erano più che altro regali di oggetti Ieri il regalo di questi ragazzi Che si sono impegnati per noi Che hanno recitato Vi giuro In più occasioni un ripianto Per cui questo sicuramente è grandissimo E sarebbe bellissimo Poter fare un pullman con questi ragazzi E portarli a buon porto A rifare esattamente quello che abbiamo visto ieri Ci hanno abbracciato Ci hanno trasmesso delle sensazioni enormi proprio Quindi il regalo sono loro Che hanno fatto il nostro programma Luigi io lo del tuo Cioè intanto oramai So...